Ciao a tutti, lui mi tradisce e chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda seguo il video. Nel frattempo iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco, iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora mescoliamo le carte, tagliamo, ceriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali. La carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Allora, concentrati su questo lui del quale vuoi sapere se ti tradisce, dopodiché scegli la carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Per chi ha scelto la carta 1? Diciamo che è una persona stabile con la quale una connessione mentale molto buona, per cui è molto difficile che ti tradisca. Chi ha scelto la carta 2? È una persona con la quale non hai una relazione piacevolissima, perché c'è un po' di fastidio in questa relazione. Se il fastidio viene acuito poi, oltre un certo limite, potrebbe anche sfociare poi nel tradimento. Chi ha scelto la carta 3? Ma è una persona che ha un giudizio positivo di te, per cui non è facile che ti tradisca. Chi ha scelto la carta 4 è una persona molto ambigua, che tiene un sacco di cose nascoste, per cui è molto probabile che ti tradisca. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina di Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti! Ciao a tutti!